da Real Steel Signore e signori questa sera la marcia per il titolo mondiale Real Steel passa per Lucca qui all'arena del Lucca Comics and Games al suo primo incontro da professionista il robot giunto a noi da nuovi sconosciuti Atom! Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti